Il diludente pareggio con il Novara, i fischi dei tifosi, alle porte il derby di Foggia come ogni post partita all'analisi affidata a Enzo Tambora. Buon pomeriggio Enzo. Buon pomeriggio Cristian. Nelle immagini non si è visto poi l'azione forse più discussano della gara Enzo, quel calcio di rigore non assegnato al Novara per un tocco di mano di Floro Flores. Il rigore c'era ed è una svista clamorosa dell'arbitro, buon per noi, però non è di questo che voglio parlare oggi perché una volta gli episodi ti vanno a favore, una volta ti vanno contro. Diciamo noi dobbiamo attenerci un po' alla prestazione del Bari, prima ancora che la prestazione all'atteggiamento del Bari, alla motivazione, l'aspetto motivazionale sul quale io insisto da alcune settimane. Ma non mi sembra questa una squadra che abbia in cima i suoi pensieri di raggiungere il miglior risultato possibile, altrimenti avrebbe giocato in altro modo perché giocare male ci sta, però non essere mai primi sulle seconde palle, perdere tutti i contrasti, questo non va bene. Perché vuol dire che evidentemente nei cuori e nelle teste dei calciatori non c'è la stessa motivazione che c'è nei tifosi del Bari. Il Novara ieri sembrava molto più motivato del Bari, sembrava molto più tonico, tosto, giocato con gamba, con determinazione, con cattiveria, perché comunque hanno commesso anche dei falli, non si sono sottratti a questa idea. Quello che non va bene, ripeto, è l'aspetto motivazionale. È assurdo che una squadra come il Bari, che comunque è lì, fino a ieri aveva ogni possibilità anche di raggiungere il secondo posto, giochi una partita del genere. Questo è quello che è accaduto lo stesso a Pescara. Cioè a Pescara dopo che si è in vantaggio 2-0 nel corso del primo tempo e sai come stanno le cose, Frosinone, Palermo, gli altri arrancano. Insomma devi rientrare in campo nel secondo tempo con la fame dei leoni. Stessa cosa è accaduta in Bari salernitana. Cioè bisogna avere fame, se non hai fame non raggiungi l'obiettivo. È un insieme di cose, perché poi la squadra solitamente somiglia all'allenatore. Quindi probabilmente è una squadra che in questo momento ha un po' l'atteggiamento di grosso, che avrà delle grandi capacità, però non dà l'idea di trasmettere quell'impeto che probabilmente in questa fase della stagione sarebbe necessario. Perché adesso è il momento in cui non puoi sbagliare, il momento dove non c'è un appello. Sono rimasti pochi punti a disposizione e devi fare il più possibile. La mia sensazione, ieri, secondo tempo di Pescara, secondo tempo di salernitana, è di una squadra che evidentemente in cuor suo, nella sua testa, non ha ancora capito esattamente che l'obiettivo può essere più alto rispetto a quello di un semplice approdo ai play-off. Perché sai, una cosa è arrivare secondi ovviamente, una cosa è arrivare terzi o quarti, perché vorrebbe dire arrivare ai play-off dal portone principale. Se arrivi quinto, sesto, settimo e ottavo, entri dalla finestrella. E quindi comunque i play-off diventano, fermo l'estate, perché tutto può accadere, però i play-off diventano complicati. Primo ascoltatore in linea, poi Enzo vorrei commentare con te le parole del tecnico Fabio Grosso. Pronto chi c'è in linea? Sì, buon pomeriggio, Dino Damodugno. Ciao Dino, ciao. Ascoltate, secondo me mister Grosso parla molto di scetticismo, ma purtroppo che cosa si aspetta sia dai tifosi e sia dai commentatori? Se la squadra è scalso, la società non c'è, non c'è un uomo che scende giù anche negli spogliatoi a dare una bella sgridata a questi giocatori, non so che quest'altro pensare. Dino grazie, ci ha fornito un assist Dino. Facciamo così Enzo, ascoltiamo le parole di Fabio Grosso e poi le commentiamo insieme. Non avevamo iniziato male nei primi minuti, poi alla prima difficoltà abbiamo perso convinzione e non è stato facile disputare quel primo tempo perché siamo andati in difficoltà, l'avversario ci ha aggredito, avremmo voluto giocare ma non avevamo la fiducia nei nostri mezzi per poterlo fare. E quindi siamo andati in sofferenza, abbiamo concesso qualche occasione, qualche ripartenza l'abbiamo fatta, però abbiamo perso le distanze e quindi abbiamo fatto fatica. E poi nel momento in cui stava per finire questo primo tempo abbiamo preso una mazzata quasi finale e quindi abbiamo organizzato un po' l'idea all'intervallo. Credo che abbiamo fatto un secondo tempo diverso in cui abbiamo creato le occasioni da gol, anche delle potenziali importantissime, non siamo riusciti a ottenere i tre punti che volevamo. E guardiamo avanti alla prossima partita che sarà altrettanto difficile e importante, però penso che tutto si può rimproverare a questa squadra tranne che manchi di impegno e io sono contentissimo dell'impegno che mettono i giocatori dal primo giorno che sono arrivato fino ad oggi. Vorremmo fare meglio, sicuramente diventiamo più bravi quando c'è un clima importante per noi perché non è mai facile riuscire a esprimere le proprie potenzialità quando c'è un pizzico di scetticismo, però noi non chiediamo niente, sappiamo che dobbiamo fare meglio perché nel primo tempo abbiamo concesso il fianco agli avversari e abbiamo reagito nella ripresa e proveremo a fare meglio la prossima partita. Queste le parole di Fabio Grosso, Enzo, non è facile esprimersi quando c'è un pizzico di scetticismo attorno a noi? Però un pizzico di scetticismo Grosso lo deve consentire ai tifosi, quando una squadra vince 2-0 in trasferta e si fa rimontare in quel modo con quel calcio di punizione al 93esimo, quando nel primo tempo giochi bene con la serenità, nel secondo tempo sparisci dal campo, un pizzico di scetticismo credo che sia una umana reazione. Va consentito, i tifosi non sono in fin dei conti dei pupazzi, i tifosi sono degli esseri umani che hanno cervello, hanno cuore, hanno delle reazioni. Ieri ad esempio hanno applaudito Sciaudone che pure 4 anni fa giocava nel Bari, l'hanno applaudito perché le hanno riconosciuto evidentemente certi valori. Insomma, lasciamo perdere i tifosi, i tifosi hanno il diritto di fare quello che vogliono. Il pizzico di scetticismo è condivisibile, la squadra pensa a fare il suo perché comunque questi sono tifosi che magari non stanno rispondendo come in altri tempi, però sono tifosi che ti seguono sempre in trasferta, sono tifosi che non ti fanno mai sentire solo. Quindi alla fine il pizzico di scetticismo, come dice Grosso, sì c'è il pizzico di scetticismo, ha ragione, però di qui a dire che le prestazioni possano essere condizionate dal pizzico di scetticismo, a mio avviso ce ne vuole. La squadra pensa a fare il suo, come ha fatto sino a questo momento, poi probabilmente noi l'abbiamo anche sopravvalutata, poi forse la squadra ha questo valore. Del resto Grosso dice che la squadra non ha niente da rimproverare, la squadra sul piano dell'impegno, quindi evidentemente secondo lui la squadra ha questo valore. Del resto quando Grosso tra le sue barricate dialettiche, nel senso che dice poco o nulla, dice un giorno noi non siamo il Real Madrid, fa capire, lo sappiamo perfettamente che il Barrio non è il Real Madrid, però fa capire che probabilmente la squadra ai nostri occhi, agli occhi dei tifosi, appare più forte rispetto a quella che è realmente. Quindi una squadra probabilmente da quel posizionamento di classifica, cioè da centrare l'obiettivo pre-off, punto. Un altro ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Francesco, sempre da spato. Ciao Francesco. Per considerazione. Ciao Francesco. Per quanto riguarda Micai, quando deve far ripartire l'azione in contropiede, si trattiene sempre la palla come solito. Poi per quanto riguarda l'abitro, ci ha regalato un punto alla fine dei conti. Poi per quanto riguarda Grosso, secondo me questo è venuto a Bari solo per farci il tirocino per il suo avvenire. Buonasera. Grazie, grazie per il tuo intervento. Micai ha qualche problema quando deve fare ripartire l'azione, perché probabilmente è piuttosto frenetico. Però negli ultimi due partiti Micai è stato il miglior in campo in Bari, quindi comunque questo la dice lunga su come le prestazioni non siano state straordinarie. Poi sulle questioni degli arbitri è evidente che ieri le sviste sono state più d'una, però io su questo argomento non voglio troppo soffermarmi, perché comunque in altre occasioni è stato il Bari penalizzato dagli arbitri. Quindi sono argomenti sui quali non è giusto dedicare chissà quanto tempo. E sono episodi che comunque nell'arco di una stagione possono capitare. Se fa il tirocino, Grosso è stato preso, si sapeva che veniva da una primavera e probabilmente chi l'ha scelto sapeva perfettamente che Grosso poteva anche andare incontro a questi passaggi dedicati a una mancanza di esperienza che è oggettiva. Non è che stiamo dicendo una cosa fuori dal mondo. Grosso, venendo da un settore giovanile ed essendo al primo anno da professionista, da giornalatore professionista, inevitabilmente commette degli errori. Quindi per me Grosso è assolutamente nella media rispetto a quanto mi aspettavo all'inizio della stagione. Pubblicità a tra poco. Secondo spazio del Bianco e del Rosso TV Sport con Enzo Tambora. 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. Enzo intanto sabato ci sarà la partita dell'anno. È per il Bari, è per il Foggia. Sì, l'abbiamo detto, è una partita che arriva in un momento bollente della stagione, una partita che sarà un moltiplicatore di energie per il finale di campionato. Se la affronti bene, mi avviso, ti vengono forze che magari pensi di non avere. Se la fai male, lo strascico diventa doloroso di qui alla fine della stagione. Però, insomma, quella partita non si può non essere motivati, insomma. Bisogna soltanto prepararla col cuore e col cervello. È una partita particolare, perché il Foggia gioca bene, è una squadra molto aggressiva, è una squadra che in casa, per carità, ha fatto più punti di trasferta forse che in casa. Però lì è un catino, cioè è difficile giocare in quello stadio. Però il Bari ha dei giocatori di esperienza che dovrebbero essere abituati a certe situazioni. Certo è che è una partita dove i se e i ma non esistono. Si gioca, punto e basta. Devi dare per forza di cosa una risposta forte, quindi giocare, ma soprattutto sul piano della regione. Devi giocare da derby, devi giocare come se fossi un tifoso in campo. Il derby si gioca incarnando lo spirito del tifoso. Devi giocare come se fossi un tifoso in quel momento. È quello che si aspettano i tifosi in questo momento. Devi giocare così, da tifoso devi giocare. Il derby si gioca da tifosi. Il Torino vinceva i derby contro la Juventus, che pure era molto più forte del Torino. Perché in quel momento i giocatori Granata giocavano come se fossero dei tifosi della curva. Si gioca in quel modo il derby, perché altrimenti non ne vieni fuori. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, buonasera. Un saluto a tutti e due. Ciao, buonasera. Buonasera. Comunque il Foggia sarà ingazzato al massimo, perché la partita che abbiamo avvinto il Bari all'andata c'è stato un posto emotivo, perché poi giocheranno la partita loro e vorranno vincere a tutti i costi. Se fanno qualche cosa devono mettere un centrocampo di ferro. Grazie, grazie per il tuo intervento. Purtroppo a centrocampo invece mancherà a Henderson, diffidato a Monico. Un uomo derby, quello è un uomo derby. Perché comunque, quando penso al giocatore che in qualche modo incarna lo spirito del tifoso, penso esattamente a Henderson, perché l'abbiamo visto anche ieri. A un certo punto ha tirato su da terra, abusellato. Insomma, è uno che piace ai tifosi per questo motivo. Oltre ad essere un buon calciatore, piace ai tifosi perché ha l'atteggiamento giusto. Magari non sarà un fenomeno, però ai tifosi basta quel tipo di atteggiamento. E allora, abbiamo anche le parole di Floro Flores, ieri tornato al gol, il suo secondo in questa stagione. Sentiamo. La cosa bella del calcio è che si se la mette solo a favore, non si se la mette mai a sfavore. Però non dicono che il fallo di Calano non è stato sanzionato. Quindi, io sono onesto, per me era Mani. Sono sincero, non mi tiro indietro. Purtroppo, anzi, ringrazio l'abitro che l'avendo sotto forma di battuta, perché comunque era rigore. Però anche su Calano era fallo. Quindi, diciamo che è stato eco la cosa da parte nostra e da parte loro. Penso che ci sta. Ma ha un significato importante. In primis, lo vorrei dedicare a Cassani, perché sta passando un periodo un po' particolare per i genitori. Quindi, a me il mio pensiero va a lui, lo dedico a lui. A parte questo, il gol mio è stata una liberazione. Vengo da un periodo un po' poco fortunato. Quindi, con tanto lavoro, tanto sacrificio, perché comunque voglio stare sempre bene. E purtroppo, magari questa a volte, gli infortuni non te lo permettono. E mi è stato tolto qualcosa. E oggi, ripeto, sono contento per me e per i compagni, perché abbiamo guadagnato un punto per come si era messa la partita. Secondo me è stata un po' quella la nostra partita oggi. Di paura, di tensione e di momenti difficili. Dobbiamo fare in modo che questo sogno si avveri, perché non con queste prestazioni. Bisogna metterci qualcosa del nostro e cercare di divertirsi un po' di più in campo e non pensare magari ai fischi e altro. Perché credo che la gente, giustamente, da noi si aspetti tanto. Perché sa che possiamo dare tanto. E allora, onesto Floro Flores, in ogni caso il gol come una liberazione, la speranza è che magari possa in questo finale di stagione viverla da protagonista. Ieri lui e Brienza hanno dato vinta al Bari. In qual modo si è cambiato la squadra? Senza di loro la squadra non riusciva a combinare praticamente nulla. Era una squadra innocua, piatta. E' chiaro che la loro classe, il loro essere dei calciatori di Serie A, anche se qualche tempo fa, però basta una giocata e te la possono anche sbloccare. Non a caso Brienza e Floro Flores ci cercano perché hanno un linguaggio calcistico molto simile. Aveva fatto gol ma stava macchiando quel gol con quel mani, direi anche un po' assurdo perché non aveva alcun senso. Colpire la palla con la mano sono gesti istintivi che però ti possono compromettere una partita. Stavolta ci è andata bene, si fa riferimento ad altri episodi, però questi episodi rispetto ad un mani in area di rigore così clamoroso passano un po' in secondo piano. Ma ripeto, la questione degli arbitri in altre occasioni siamo stati danneggiati noi. Ieri ci è andata bene e a me quello che interessa è il livello della prestazione della squadra e soprattutto il livello motivazionale. Un altro ascoltatore in linea, pronto? No, abbiamo perso il nostro ascoltatore. Enzo è antipatico farlo però ti chiedo anche di commentare quelle che sono state le scelte di Fabio Grosso. Affidarsi a Imperero in difesa per l'infortunio di Marrone, bussellato a centrocampo con un bascia in non perfette condizioni fisiche, poi la panchina di Nenè in favore di Cossack. Beh, guarda, bisognerebbe capire perché, perché lui aveva parlato di alcuni acciaccati, per cui adesso non sappiamo esattamente chi era acciaccato e quali invece ci è rimasto a guardare per una scelta strettamente... Bascia è sicuro perché anche oggi ha svolto comunque... Bascia sì e speriamo che recuperi perché giocare senza Bascia ed Enderson a centrocampo è pesante, sono due assenze pesanti nello stesso reparto. Bussellato fa quel che può, il classico giocatore anonimo, a me i giocatori anonimi non fanno impazzire, a me piacciono i giocatori... Soprattutto in quella zona del campo. Rientra Petriccione, però anche lì il vero problema è chi fa girare la palla. Ieri la palla ha cominciato un po' a girare quando è entrato Brienza, perché quando non c'era Brienza la palla io passo a te, tu passo a me, io passo indietro. Non sapevano che farsene praticamente. Sulla difesa è un perere di Achite, anche lì bisogna capire, di Achite non sta ancora bene oppure è stata una scelta tecnica. Se è una scelta tecnica... Ma se è una scelta tecnica, se è una scelta tecnica, io provo a immaginare perché è stata fatta la scelta tecnica. Perché probabilmente è un perere da un punto di vista tecnico e fa un po' il paio con Marrone, nel senso che è un po' il sostituto di Marrone, cioè il giocatore in grado di impostare l'azione. Fermo restando che io tutta questa qualità nell'impostazione del gioco non l'ho vista. Peraltro è un giocatore che si fa effettivamente facilmente superare. A un certo punto ha preso qualche metro da maniero sullo scappo. E sappiamo perfettamente che tutto è all'infuori che è un velocista. Se la scelta è tecnica, ovviamente come dicevi tu, insomma se si pensa che abbiamo pagato 10 mila... Hanno pagato, il Presidente ha pagato 10 mila euro per far giocare Di Achite al posto di Tonucci, beh la cosa è abbastanza singolare. Un'altra telefonata, pronto chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Eccoci. Ciao Cristian, buonasera, saluto Enzo. Ciao. Volevo chiedere una cosa a Enzo. La partita io penso che l'abbiamo vista insieme. Mi deve dire, questo galano che lui spiegava ieri, tutto euforico, che si dava da fare in una giornata splendida... Allora, guarda, si è bravi a parlare quando la partita è finita. Io devo commentare minuto per minuto e in tempo reale. All'inizio galano aveva avuto qualche sprazzo interessante, sembrava in serata, aveva giocato 20 minuti, i primi 20 minuti, sembrava lui. Sembra più vivo. Ora, ironizzare sul fatto che poi galano abbia giocato male alla fine, insomma, io devo commentare quello che vedo. Per me, per i primi 20 minuti, galano era, come dire, pieno di iniziativa. Anche perché Enzo poi... Poi si è spento, ma io non posso sapere... Hai sottolineato in telecronaca, poi come il giocatore, poi via via si sia spento e abbia comunque... Lo sottolineato anche come il giocatore si sia spento. Quindi, insomma, che ironizzi sul fatto che io abbia detto al ventesimo del primo tempo, galano mi sembra in serata, poi alla fine ha giocato male, ma io non posso sapere galano di lì, dopo che cosa farà, insomma. Altrimenti vorrebbe dire che sto vedendo una partita che si è già giocata. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, tra poco. Ultimo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Enzo Tambora. Enzo, io vorrei tornare comunque su Cristian Galano, protagonista negativo anche in occasione del gol del vantaggio del Novara con Puskas con la pala persa in favore di Calderoni. Cosa sta accadendo al calciatore? Ripeto, lui era partito bene. Per me un quarto d'ora e venti minuti li aveva fatti bene per le iniziative, cercava spazio per il tiro, poi si è spento in maniera, diciamo, anche clamorosa, perché probabilmente Calderoni potrebbe aver commesso a farlo su Galano, però là devi stare forte in piedi, devi fare, non lo so, invece vedo in alcuni calciatori, ieri non riuscivano a tenere il temperamento invece del Novara. Poi Galano non riesce praticamente più niente, cioè è persino irriconoscibile il suo piede mancino, che eppure dovrebbe essere un valore assoluto per la bigliere, ha provato a tirare a un certo punto, è venuta fuori una scartoffia praticamente, non un tiro, cioè aveva la possibilità di tirare una botta, però non sembrava il suo sinistro. Cioè Galano è un sinistro micidiale, Galano è uno che può segnare da 30 metri con il sinistro, un tiro debole, rasoterra, non so se ricordi. Io sono rimasto stupito, l'ho detto in telecronaca, ho detto in giorni d'andata che riusciva tutto, adesso non gli riesce nulla, è probabilmente bloccato, è bloccato proprio mentalmente, perché quando uno ha di queste prestazioni, quando non somiglia a se stesso, vuol dire che nella testa c'è qualcosa che non sta funzionando, perché nello sport questo è anche importante, la testa ha un ruolo fondamentale, nel senso che se stai bene con la testa, se sei motivato, sei in fiducia, ti riesce tutto. In questo momento Galano non riesce praticamente nulla. Un'altra telefonata, pronto chi c'è in linea? Ciao Cristian, ciao Enzo, sono Mimmo Dabbai. Ciao Mimmo. Ho sentito che Floro Flores parlava di fischi, ragazzi, ma quali fischi? Fischi a fine partita, per 90 minuti hanno dato uno spettacolo indecoroso, la curva li ha pure sostenuti, a Pescara eravamo in 600, ragazzi, abbiamo applaudito a fine partita, a Foggia non so quanti ne saremo, ma comunque non andremo in poche persone. Quindi io vedo che da parte nostra c'è soltanto fiducia nei confronti della squadra. E poi che cosa vogliono? Cioè ragazzi, dal 2011, prendiamo schiaffi da destra e sinistra, la società, i giocatori dovrebbero pure capire un pochino il tifoso, cosa passa quando prende queste delusioni, come quella di ieri. Ciao ragazzi. Hai detto tutto tuo e la classica telefonata dopo la quale io non ho niente da aggiungere. E allora, abbiamo anche le parole di uno dei tanti ex, Daniele Schaudone, sentiamo. Peccato perché poteva essere un episodio importante, io oramai non l'ho affischiato, quindi non ci penso già più. Credo che siamo stati molto bravi noi nel primo tempo a limitare la loro bravura correndo, pressando e non facendoli giocare. Poi nel secondo tempo ovviamente sono un po' usciti con giocate dei singoli, con delle sostituzioni di giocatori importanti, di categoria anche superiore, quindi non a caso hanno fatto gol, però siamo stati ancora bravi a reggere, abbiamo avuto delle opportunità, però è una squadra molto forte e sono assolutamente certo che farà molto bene da qua alla fine. Beh sì, cosa posso dire? Non posso dire niente, solo il gesto, parla da sei, ringrazio, ringrazio veramente tanto tutta la gente, tutti i tifosi, perché per me è sempre una grande emozione giocare qui e ricevere questo affetto è bellissimo, quindi veramente ancora grazie a tutti quanti. E poi nella busta come sempre, ci sono sempre tantissimi regali e focaccia a non finire, quindi tra ieri e oggi ho un paio di busti di Tarale, orecchiette, focacce, quindi ogni volta arrivo con un borsone e vado via con quattro, quindi ringrazio tutti quanti. Allora, questo show dono, Enzo, ti chiedo tra i tanti ex, chi ti è piaciuto di più? Beh, Puskas. Cresciuto tanto. Puskas ha giocato una partita, c'entrava antivero, molto bravo. E Calderoni anche, Calderoni ha giocato una grande partita, Calderoni ha messo le corde Anderson, cioè gli ha fatto fare brutta figura ieri. Come è andata? Ricorderai che Calderoni puntava sempre Anderson, Anderson è un giocatore da doppio volto, perché nella fase difensiva fa dei movimenti, a mio avviso, che denotano una difficoltà proprio a interpretarla, mentre ha una buona fase offensiva, soprattutto quando ha campo davanti a sé. Quindi Calderoni e Puskas, senz'altro abbastanza bene da sei, la partitazione di Daniele Sciaudone, Maniero si è visto poco, ma aveva giocato benissimo anche Sansone. Sansone non male, grintoso come in verità, non l'avevo mai visto fare a Bari. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, saluto Cristian, ma saluto con affetto il suo collega, perché è un grande per me. Grazie, troppo bravo. È un grande perché è una persona, un grande giornalista, veramente serio, e un sofferente come me del Bari, naturalmente. devo dire solo questo, volevo solamente esprimere il mio distenso in tutte le cose, nel caso in cui noi stiamo soffrendo una situazione da non so da tanti anni, ma credo che forse il vero delitto avvenga nel momento in cui venga riconosciuta la potestà di un direttore sportivo che secondo me non ha fatto bene a nessuna parte. Guardiamo il suo curriculum. E soprattutto illudere la gente di Bari e l'amore che abbiamo per questa squadra con dei giocatori che comunque sono alla fine di un discorso di carriera. Per cui non pretendiamo più di tanto da grosso. Sarà un domani un buon allenatore, un grandissimo allenatore, ma adesso facendo l'apprendistato e ritengo che lui si stia adeguando un po' a quello che gli è stato offerto. Giocatori che addirittura vengono qui a Bari ma non li senti per sei mesi, una roba che sono appena infortunato dopo una partita. Guardiamo lì il greco... Ocolomu, sì. Ocolen, non so il nome. E mi sembra incredibile tutto questo. È una grande presa per FES, per la gente. Qui non illudiamoci, tra parrenze. Dico questo semplicemente a Enzo che sono un grande amico dello zio, tra parrenze. Ma Enzo è grandissimo. Grazie a me. Lo adoro perché è un grande tifoso del bar. Però se andiamo agli play-off non facciamo niente. Ho visto Cittadella e altri giocatori. Mettono il cuore. Ma questi sono professionisti ormai arrivati e la fame non le hanno per potersi migliorare. Grazie, grazie. Enzo. Allora, il nostro amico dice una verità. Però bisogna vedere cosa c'è dietro questa verità. È chiaro che Sogliano ha fatto una campagna acquisti, una campagna acquisti anche abbondante, così come ha fatto sempre. È chiaro che quando fai una campagna acquisti abbondante fai delle cose buone, delle cose meno buone. sicuramente ha fatto molto meglio rispetto a quanto non abbia fatto lo scorso anno. Quest'anno ha avuto anche delle intuizioni, non dimentichiamolo, come quella di Anderson, come quella dello stesso Anderson e altre cose molto interessanti. Ora, bisogna capire, il tutto ruota intorno a un concetto. Cioè, Sogliano, rispetto agli investimenti fatti dalla società, ha fatto il massimo sì o no? Cioè, questo è il punto, praticamente. Bisogna capire quanto gli è stato messo a disposizione. Ma questa è una valutazione che può fare soltanto Giancaspro. Credo che nessuno più di Giancaspro possa valutare l'operato di Sogliano. Per quanto Giancaspro non sia un uomo di calcio, è un uomo che sta imparando il calcio, però soltanto lui può sapere quanto gli costa questo Bari e se è soddisfatto rispetto all'investimento del rendimento della squadra. Da quello che mi sembra di capire, il Bari punta semplicemente a giocare i play-off. D'accordo? E' questo l'obiettivo del Bari in questo campionato. E' chiaro che la gente non può star bene partecipare, giusto per partecipare ai play-off. Però questa è la nostra logica, è la logica dei tifosi, ma può essere che la logica della società sia una logica differente rispetto alla nostra. Cioè, loro si pongono l'obiettivo quest'anno di entrare ai play-off. Abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo fatto bene. Non so se è chiaro. Il nostro amico però dice una cosa molto vera. Ci sono dei giocatori che, sì, hanno un nome, però negli ultimi anni non hanno giocato con continuità. Nel calcio bisogna essere soprattutto atleti. Questo è vero. E per raggiungere una condizione atletica top devi giocare con continuità. Se tu non giochi da sei mesi hai bisogno di tempo prima di tornare te stesso. Ha fatto dei riferimenti a calciatori che non hanno giocato dove erano e non stanno giocando neanche dove sono attualmente. Ed altri che probabilmente hanno difficoltà a carburare. E questo conta, perché nel campionato di Serie B regola numero uno, lo ricordiamo per tutti, è correre, pedalare. E la tua chiusura, Enzo, vuoi ulteriori 30 secondi? Mi piaceva questa chiusura. Vabbè, comunque c'è il derby di Foggia. Io spero che la questura a Foggia stia organizzando i derby come l'abbiamo organizzato noi molto bene qui a Bari. C'è una situazione un po' diversa. Perché Bari è uno stadio fuori dalla città, Foggia è uno stadio nel cuore della città. Si passa sotto i palazzi, c'è uno stadio di vecchia concezione. Quindi il mio appello alle autorità foggiane a fare tutto per bene. Peraltro c'è una situazione abbastanza curiosa e atipica a Foggia. Perché a Foggia i gruppi organizzati occupano sia la curva sud che la curva nord. Quindi inevitabilmente ci sarà molta vicinanza credo tra quelli della nord del Foggia e i tifosi del Bari che si metteranno in un angolo tra curva nord. E quindi insomma non venga lasciato nulla al caso. Perché ci saranno tanti baresi, ci saranno tanti ragazzi, ci saranno anche delle famiglie che andranno lì. Quindi io mi auguro che stiano organizzando tutto nel miglior modo possibile. Stop. Un grazie a Enzo Tambora, grazie anche a voi. A domani con il Bianco e il Rosso TV Sport. Ciao. Grazie a tutti.